Nell'episodio 284 Il palazzo si sveglia con la sorprendente riapparizione del padre di Abel, un'assenza che ha lasciato il suo segno nel tempo. Questa visita agita profondamente Abel, risvegliando nodi irrisolti e intricate dinamiche familiari. Le tensioni tra padre e figlio, da lungo tempo sepolte nel passato, emergono nuovamente minacciando l'equilibrio del palazzo. L'inaspettato ritorno del padre di Abel genera preoccupazione tra i vicini del palazzo, dando vita a un mormorio di curiosità e timori. Manuel, amico di lunga data di Abel, si trova coinvolto nella vicenda, osservando con attenzione e interrogandosi sulla relazione complessa tra padre e figlio. La visita del padre di Abel non è solo un ritorno finanziario, come suggerisce Abel offrendo denaro, ma sembra celare intenzioni più profonde. Un desiderio di risolvere vecchi torti e ristabilire connessioni familiari spezzate. Manuel, attento a ogni sfumatura della situazione, si interroga su come questo evento influirà sulla vita del palazzo e sui legami tra i suoi abitanti. Mentre il palazzo diventa il teatro di un confronto familiare carico di emozioni, le azioni di Abel, il padre e gli altri personaggi, delineano un intreccio intricato che mette alla prova la solidità delle relazioni. La tensione cresce, gettando ombre sui corridoi del palazzo, e il destino di Abel e suo padre si lega in modo indissolubile a quello della comunità che li circonda. La notizia della visita del padre di Abel suscita preoccupazione tra i vicini e, in particolare, getta Manuel in uno stato di inquietudine. L'agitazione di Abel è palpabile, rivelando una necessità acuta di affrontare tanto il passato, quanto le intricate dinamiche che caratterizzano la sua famiglia. Nel tentativo di risolvere la situazione, Abel offre nuovamente una soluzione finanziaria al padre, sperando che ciò lo induca a lasciare il palazzo. Ma il patriarca ha in serbo altre intenzioni. Lascia trapelare che la sua visita va oltre la mera risoluzione di questioni economiche e potrebbe essere guidata dal desiderio di correggere vecchi errori. Manuel, amico fidato di Abel, si interroga sulla complessità della relazione tra padre e figlio. Il ritorno del genitore di Abel e la ricomparsa di vecchie tensioni catturano l'attenzione di Manuel, che si ritrova coinvolto malgrado tutto. La reazione di Abel alla situazione e la sua riflessione sui ricordi del passato hanno un impatto diretto sui pensieri e sulle emozioni di Manuel. Nel frattempo, Iana e Salvador decidono di fare visita a Maria Fernandez, un altro tassello chiave del puzzle emotivo del palazzo. Salvador, desideroso di condividere la verità con Maria Fernandez, si scontra con l'opposizione decisa di Iana, convinta che Catalina possa ancora influenzare Cruz. La trama si infittisce ulteriormente, con segreti e relazioni intricate che si svelano a poco a poco, alimentando la suspense nel palazzo. In questo intrigante capitolo, Catalina si presenta come una donna determinata, con il chiaro intento di risolvere le intricanti sfide della sua vita sentimentale prima di immergersi nella soluzione del caso di Maria Fernandez. Con un coraggio palpabile, fa un passo avanti, dirigendosi con fermezza verso Pelaio, il quale le si presenta di fronte. L'audacia di Catalina non passa inosservata e colpisce profondamente Pelaio. Tra i due, temi e malintesi del passato vengono finalmente affrontati in un dialogo aperto e schietto. Mentre Pelaio cerca di porre rimedio alla sua relazione con Catalina, le altre connessioni che ha al palazzo rischiano di incrinarsi. Un'atmosfera carica di tensione si materializza tra Lorenzo e Pelaio. Lorenzo, con fermezza, decide di espellere Ieronimo dal palazzo e minaccia di coinvolgere il sergente Funes, soprattutto per indagare sul recente furto. La determinazione di Lorenzo nel preservare l'ordine al palazzo non sfugge all'attenzione di Pelaio, il quale si trova ad affrontare la rabbia di Lorenzo e le conseguenze del furto. Mentre Feliciano lentamente inizia a riprendersi, il suo interesse si volge sempre più agli affari del palazzo. Questa svolta è accolta con gioia da Teresa e Petra, che vedono nel recupero di Feliciano un rifiorire positivo dell'atmosfera nel palazzo. L'aria si carica di aspettative e la trama si sviluppa con nuove dinamiche, promettendo di svelare ulteriori intrecci nelle vicende del palazzo. All'interno delle maestose mura del palazzo, Teresa veglia amorevolmente sul percorso di recupero di Feliciano, la cui guarigione si staglia come una stella luminosa, irradiando speranza per l'intera comunità. Nel cuore dell'attesa, Petra trova la serenità come un fiume tranquillo, nell'ansiosa aspettativa del ritorno del figlio, la cui rinascita promette di rinnovare la vita quotidiana del sontuoso palazzo. Il progresso graduale di Feliciano verso la salute diventa un poema di speranza, intessuto di fili di affetto e coraggio, tessendo una trama intricata di resilienza e legami familiari. Mentre la residenza palpita di emozioni, Petra, con occhi che riflettono l'aurora di un nuovo giorno, vede nel ritorno di Feliciano un canto di rinascita e prosperità. L'affetto di Teresa e la pazienza di Petra si trasformano in poesia, contribuendo a creare una narrazione avvolgente e ricca di sfumature, dove il bene comune trionfa sulla melodia della malattia. L'attesa del ritorno di Feliciano, un capitolo indimenticabile nella storia di questa comunità, l'accoglienza calorosa riservata al ritorno di forze di Feliciano diviene il centro di un'atmosfera di rinascita nel palazzo, con tutti gli abitanti che si uniscono nell'entusiasmo per il suo graduale recupero e il ritorno alla normalità. Nel fervore delle preparazioni per l'imminente battuta di caccia in onore di Curro, quest'ultimo si lascia travolgere da emozioni palpabili. Ogni angolo del palazzo è immerso nei preparativi, creando un'atmosfera unica e coinvolgente per la prossima battuta di caccia. L'entusiasmo contagioso di Curro permea l'intero palazzo, alimentando l'attesa e le aspettative. Manuel, per condividere l'entusiasmo di Curro e offrirgli sostegno, organizza apposite sessioni di addestramento di caccia. L'iniziativa di Manuel contribuisce a rendere ancora più speciale la preparazione di Curro per la battuta di caccia, mentre i due si dedicano anima e corpo per affinare le abilità necessarie. Nel frattempo, all'insaputa di Curro e Manuel, Lorenzo e Cruz stanno tessendo trame segrete. Con l'arrivo dell'episodio 285, tutti i dettagli della battuta di caccia sono ormai completati. Il palazzo, splendidamente decorato, si anima di un'atmosfera unica, arricchita dalle meraviglie della natura. I giardini del palazzo si colorano di fiori dai molteplici toni, mentre aree appositamente allestite attendono gli ospiti con cura. Man mano che si avvicina il fatidico giorno della festa, gli ospiti, con il loro stile elegante e l'entusiasmo palpabile, convergono lentamente verso i loro posti. L'aria è carica di aspettative, anticipando un evento, la battuta di caccia, destinato a rimanere indelebile nella memoria di tutti al palazzo. Curro e Alonso non vedevano l'ora di aprire le porte del palazzo per accogliere calorosamente gli ospiti, desiderosi di far loro trascorrere una giornata indimenticabile. Questo giorno speciale si prospettava come un'occasione perfetta per unire tutti gli abitanti del palazzo in un'atmosfera di gioia e divertimento. Tuttavia, dietro la facciata di questa giornata luminosa, si celavano sorprese che avrebbero potuto gettare un'ombra di tristezza sull'evento. Maria Fernandez, desiderosa di tornare al palazzo, cercava con insistenza la verità da Iana, ignara delle sfide nascoste dietro la sua assenza. Costretta dalle pressanti domande di Maria Fernandez, Iana si trovò costretta a rivelare la verità, un momento carico di tensione e rivelazioni emotive. Mentre Maria Fernandez affronta la verità, Abel emerge come un faro di sostegno empatico nei confronti di Iana, offrendo conforto e comprensione. Le sue parole gentili agirono come un balsamo, lenendo le ferite emotive di Iana e consolidando un legame più saldo tra di loro. Nel contempo, Lorenzo, annunciando problemi di salute, si sottrasse alla battuta di caccia, gettando le basi per il suo enigmatico piano. Mentre gli altri abitanti del palazzo cercavano di comprendere la sua assenza, l'incertezza avvolgeva il vero motivo dietro la sua decisione. Curro, inizialmente fiducioso riguardo alla giornata di caccia con Lorenzo, cominciò a preoccuparsi vedendo l'amico assente alla festa, presagendo un'ombra di tensione nell'aria. Gettava un'ombra sulla celebrazione imminente. Notando la situazione imbarazzante di Curro, alcuni ospiti decidono di prendersi gioco di lui, alimentando chiacchiere e battute che aumentano la tensione alla festa. È evidente che Curro si trova in una situazione difficile, soprattutto dopo l'assenza di Lorenzo, lasciandolo in una situazione delicata. Alonso interviene prontamente quando si rende conto che Lorenzo non partecipa e Curro si trova in una situazione complicata. Per agevolare la situazione di Curro, Alonso gli assegna una nuova missione durante la battuta di caccia. Questa mossa mira a migliorare il morale di Curro e a dare un impulso positivo alla festa. L'intervento tempestivo di Alonso allevia la tensione nel palazzo e impedisce scherzi potenzialmente imbarazzanti tra gli ospiti. L'azione di Alonso diventa un'opportunità per Curro di riprendersi, poiché assume più responsabilità con la sua nuova carica. Tuttavia, Alonso è all'oscuro della complicata trama che si sta svolgendo dietro le quinte. Nel frattempo, Lorenzo, come parte del suo enigmatico piano, fa partire Curro in modo apparentemente pacifico, ma il pericolo che incombe su di lui è in aumento. Mentre Curro si impegna nella sua nuova missione, il sicario di Lorenzo completa silenziosamente gli oscuri preparativi e la tensione al palazzo raggiunge livelli sempre più elevati. Nel capitolo 287, l'intreccio della storia del palazzo subisce una svolta drammatica quando Curro, immerso nella solitudine, si ritrova improvvisamente vittima di un agguato attentamente ordito dal sicario. Il proiettile mirato a Curro colpisce anche Feliciano, che aveva cercato di soccorrere il suo amico. Questo attacco inaspettato scuote l'intero cast di personaggi del palazzo, aggiungendo ulteriore complessità alla trama intricata degli eventi. Ciò che doveva essere un'allegra battuta di caccia si trasforma invece in una profonda delusione, generando un'atmosfera carica di tensione e confusione tra gli ospiti. La morte di Curro e Feliciano, frutto del coraggioso confronto di Curro con il pericolo, colpisce profondamente la coesione della comunità del palazzo. La risposta all'evento drammatico non tarda ad arrivare. Alonso, Manuel e Salvador si precipitano per affrontare l'emergenza. Corrono al palazzo per gestire la situazione critica di Curro e Feliciano, cercando misure urgenti per preservarne la salute. Abel, consapevole della gravità della situazione, si rivolge a Sandoval, un medico esperto, per ottenere assistenza. La difficile situazione di Curro e Feliciano richiede un intervento immediato e coordinato, sfruttando le competenze mediche di Abel e l'esperienza di Sandoval. Mentre si affronta con determinazione questa sfida medica, un nuovo sviluppo inaspettato cattura l'attenzione di tutti, il ritorno repentino di Candela al palazzo. Questo evento imprevisto agisce come una boccata d'aria fresca, dissipando le ansie di Simona e riaccendendo la fiamma della speranza. La presenza improvvisa di Candela, con il suo ritorno inatteso, proietta una nuova luce sull'atmosfera del palazzo, cancellando la paura che aveva avvolto Simona. La comunità del palazzo, stretta nella preoccupazione per Curro e Feliciano, trova un barlume di sollievo e ottimismo nell'inatteso ritorno di Candela. L'improvvisa e inaspettata visita di Margarita al palazzo getta Vera in uno stato d'animo turbato e instabile. Con la preoccupazione di possibili segreti e tensioni che potrebbero sconvolgere l'equilibrio del palazzo, Vera si adopera intensamente per dissuadere Pia dall'accogliere questa visita. La sua ansia è palpabile mentre condivide apertamente con Pia tutte le preoccupazioni e i timori che albergano nella sua mente, sperando di preservare la tranquillità e l'armonia della loro dimora. D'altro canto, Pla mostra una posizione più ottimista, ritenendo che la visita di Margarita sia di fondamentale importanza e non debba essere ostacolata. La sua convinzione nell'importanza di questa visita si scontra con la preoccupazione di Vera, creando una dinamica di tensione tra i personaggi. Nel frattempo, Maria Fernandez prende una decisione coraggiosa che segna un nuovo inizio nella sua vita. Riconoscendo l'impossibilità di tornare al palazzo, decide di cercare lavoro al di fuori di Lujan. Questa scelta simbolizza non solo la fuga da una situazione difficile, ma anche l'opportunità di abbracciare una vita indipendente, lontana dalle complesse dinamiche del palazzo. La sua decisione di cercare lavoro fuori rappresenta una svolta significativa nel suo percorso personale. La preoccupazione di Salvador per il suo giovane amante emerge in tutta la sua profondità, poiché desidera evitare che si allontani da Lujan, consapevole che ciò potrebbe avere un impatto negativo sulla loro relazione. Riconoscendo i cambiamenti imminenti nella vita del suo compagno, Salvador cerca con empatia di trovare un equilibrio, cercando di preservare al contempo il forte legame del giovane con Lujan. Dall'altra parte, Cruz è pieno di rabbia nei confronti di Lorenzo a causa del fallimento del loro piano congiunto. Nonostante la frustrazione di Cruz, Lorenzo mostra una determinazione inalterata nel perseguire il loro obiettivo comune di eliminare Curro, rivelando una persistente fermezza nelle sue ambizioni malvagie, nonostante le difficoltà incontrate. L'atmosfera si carica di tensione, mentre la famiglia Lujan si trova ad affrontare una serie di decisioni cruciali. Il destino di Curro è sospeso in un equilibrio precario e la famiglia si ritrova a dover prendere una decisione cruciale, trasferire il giovane a Puebla de Tera o rimanere alla promesa. Questa scelta impegnativa riflette il profondo impegno della famiglia per la salute di Curro, sottolineando le crescenti preoccupazioni sul percorso del suo trattamento. In un capitolo ricco di tensione e decisioni fondamentali, la famiglia è chiamata a fronteggiare le sfide imminenti con risolutezza e compassione. La prospettiva di trasferire Curro a Puebla de Tera si dipinge come una scelta che potrebbe garantire un trattamento più specifico, mentre la permanenza alla promesa offre la possibilità di mantenere la vicinanza alla famiglia e ricevere supporto in un ambiente familiare. In questo delicato momento, Cruz e Lorenzo convergono le loro forze, convinti che il piano da loro concepito avrà successo, poiché dubitano delle capacità curative di Abel nei confronti di Curro. Attraverso abili manovre persuasive, Cruz e Lorenzo influenzano le opinioni di Alonso, portando la famiglia Lujan a decidere che Curro debba rimanere al palazzo. Questa determinante scelta influenza notevolmente lo sviluppo della storia, complicando ulteriormente le dinamiche tra i personaggi. Nel frattempo, Feliciano inizia lentamente a riprendersi dopo un'operazione impegnativa. Il successo dell'intervento chirurgico porta un sollievo palpabile sia alla famiglia che agli altri personaggi. Con la partenza del dotte, Sandoval, Abel assume l'onere completo della cura di Curro, aumentando così le sue responsabilità. La gestione delle questioni mediche al palazzo mette ulteriormente in luce il carattere di Abel, che si trova ora a fronteggiare sfide sempre più complesse con determinazione e dedizione. Con l'assunzione delle sue nuove responsabilità, Abel si trova di fronte a un'improvvisa emergenza, la necessità urgente di sangue per Curro. La situazione è critica, e la corsa contro il tempo inizia. Abel si impegna immediatamente nella ricerca di un donatore di sangue compatibile, una sfida che potrebbe portare alla luce segreti nascosti e intrecci di relazioni tra i vari personaggi del palazzo. In questo delicato momento, ogni scelta di Abel diventa cruciale, non solo per la vita di Curro, ma anche per la trama intricata che lega le vite dei residenti del palazzo. In mezzo all'ansia per la situazione di Curro emerge un personaggio inaspettato, pronto a fornire il sangue vitale per il giovane. Si tratta di un momento di svolta quando un individuo, fino ad allora in secondo piano, si presenta come il donatore adatto. La sua presenza diventa una luce di speranza nella complicata trama della vita al palazzo. Nel frattempo, Catalina, con cuore e anima, si avvicina a Pelaio. Nella sua richiesta di aiuto esprime profondità emotiva, credendo che Pelaio possa svolgere un ruolo significativo nella risoluzione della complicata situazione di Maria Fernandez. Catalina cerca di convincere Pelaio a intervenire e persuadere Cruz ad accogliere di nuovo Maria Fernandez nel palazzo. La sua richiesta è permeata di sincera fiducia nel potere di Pelaio di influire positivamente sulla vicenda, aggiungendo un ulteriore strato di tensione e speranza alla trama in evoluzione. Imbattendosi nelle sincere parole di Catalina, Pelaio si ritrova a riflettere profondamente sull'importanza del ritorno di Maria Fernandez al palazzo, non solo per la persona coinvolta, ma anche per il benessere collettivo della famiglia e del personale. La sua consapevolezza dell'impatto che questa decisione avrà sulla dinamica familiare aggiunge un tocco di ponderazione e responsabilità al suo personaggio. Nel frattempo, Romulo e Pla si immergono in un'analisi attenta degli eventi che hanno seguito la battuta di caccia al palazzo. Le loro indagini meticolose iniziano a rivelare che dietro un apparentemente casuale incidente di caccia si nascondono circostanze sospette. La trama si addensa, portando alla luce misteri che possono avere conseguenze significative sulla vita dei personaggi e sulla stabilità del palazzo. La tensione cresce mentre il velo dell'ignoto si solleva, rivelando segreti che influenzeranno il corso degli eventi alla promesa. Pla si rivolge a Romulo con un'espressione di perplessità dipinta sul viso e afferma con sicurezza. Questi avvenimenti mi sembrano alquanto strani. La situazione di Curro, l'attacco subito da Feliciano, quando mettiamo insieme tutti questi elementi, non sembra affatto un semplice incidente. Insieme, i due decidono di unire le forze per svelare il mistero che circonda gli eventi misteriosi al palazzo. La determinazione nei loro occhi rivela una chiara intenzione di gettare luce su ciò che si cela dietro la facciata di normalità. Nell'episodio 288, mentre le condizioni di Curro precipitano rapidamente, Abel e Geilei e altri medici convergono verso una decisione cruciale. È indispensabile un intervento chirurgico urgente. L'atmosfera al palazzo diventa carica di tensione, mentre il team medico si prepara ad affrontare l'emergenza e la famiglia Lujan è sospesa tra speranza e preoccupazione per il destino di Curro. In qualità di capo del team medico del palazzo, Abel si impegna al massimo per preparare ogni dettaglio indispensabile per salvare la vita di Curro. Tuttavia, emerge un'ulteriore sfida. Trovare una fonte di sangue compatibile per il trattamento di Curro. Abel dà istruzioni precise ai suoi colleghi per individuare un donatore adatto, elemento cruciale per il successo dell'intervento. Nel frattempo, l'intero palazzo è avvolto da una preoccupazione palpabile per le condizioni di Curro. Nel palazzo, mentre Alonso, Martina e giri altri membri del personale riversano il loro fervore nelle preghiere per la rapida guarigione di Curro, l'atmosfera si carica di tensione e attesa. In questo momento critico, Abel e il suo team si dedicano con instancabile dedizione, sfruttando ogni risorsa disponibile per garantire la sopravvivenza di Curro. Contemporaneamente, Cruz decide di intervenire, chiedendo di interrompere l'indagine condotta da Pla e Romulo sulla battuta di caccia, contribuendo a creare ulteriori tensioni nel palazzo. Pla e Romulo persistono nella loro determinazione a risolvere il mistero dietro l'incidente, ansiosi di far luce sugli strani eventi che hanno sconvolto il palazzo. Pla, con una crescente convinzione, esprime sospetti sul fatto che l'incidente non sia un semplice evento legato alla caccia, impegnandosi attivamente nella ricerca di ulteriori dettagli. Nonostante la richiesta di Cruz di fermare l'indagine, gli enigmi misteriosi al palazzo si approfondiscono, sfidando ogni tentativo di ostacolarne la soluzione. Pia e Romulo, animati dalla determinazione di scoprire la verità, intensificano le loro indagini, generando tensioni all'interno del palazzo e scatenando un conflitto con Cruz e il suo team. Nel frattempo, Pelaio condivide con Catalina la notizia che Cruz ha nuovamente accolto Maria Fernandez al palazzo, suscitando gioia tra il personale. Nonostante il clima festoso, Maria Fernandez avverte che alcune dinamiche sono cambiate durante la sua assenza dal palazzo. Ritornando al palazzo, Maria Fernandez si lascia avvolgere da un'atmosfera gioiosa, ma presto avverte i sottili mutamenti nelle dinamiche della residenza. Queste trasformazioni avranno un impatto significativo sull'adattamento di Maria Fernandez al palazzo, rivelando le sfide che dovrà affrontare nella sua nuova situazione. Nel frattempo, Feliciano, pur dichiarando di sentirsi bene, improvvisamente collassa, gettando un'ombra di preoccupazione su tutti gli abitanti del palazzo. Questo imprevisto colpo di scena riguardante il giovane Feliciano colpisce profondamente tutti al palazzo. La sua improvvisa condizione crea un'ondata di ansia e panico, inaugurando un periodo di incertezza sulla sua salute. Tutti attendono con preoccupazione notizie sullo stato di Feliciano, mentre l'atmosfera nel palazzo diventa carica di tensione. Nel frattempo, Vera cerca di evitare l'incontro con l'ospite Dona Margarita, ma alla fine si trova costretta ad affrontare la situazione. Vera è sconvolta quando la signora la riconosce. Questo inaspettato riconoscimento porta con sé il potenziale di rivelare segreti del passato, mettendo Vera di fronte agli effetti di questo incontro imprevisto. L'identità dell'ospite della signora Margarita rimane avvolta nel mistero, ma la sua presenza potrebbe influenzare significativamente l'equilibrio del palazzo. Le conseguenze di eventuali segreti che emergono sul passato di Vera saranno cruciali, portando a cambiamenti profondi nelle relazioni e nella trama della storia. Unisciti a noi in questa straordinaria avventura nel palazzo. Iscriviti al canale per restare aggiornato su ogni episodio, lascia un like se ti emoziona il percorso e commenta con i tuoi pensieri.